Crum crum Castorini, ciao! Ben trovati! Come state? È da un po' che non ci vediamo. Allora, abbiamo pensato di farvi una proposta. Dopo che avete ascoltato la storia che vi ha raccontato Nadia su Gesù, Emanuele e la mamma, abbiamo pensato, se ne avete voglia e ne avete tempo, di fare un piccolissimo lavoro per le vostre mamme per dirgli grazie, per dire grazie alle vostre mamme, per ringraziarle di tutto l'amore e di tutte le cose belle che vi fanno. Queste sono due proposte, molto semplici, se volete farle. Vi faccio vedere. Questa è una pianta speciale, ha delle foglioline verdi, a posto di fiori ci sono dei cuoricini. Per fare questo abbiamo bisogno di un po' di carta rossa, di un po' di carta verde e di un pezzettino di carta marrone. Ci servono solo forbici, colla e carte colorate. Se però non avete le carte colorate, possiamo prendere della carta bianca e colorarla, colorarne qualche pezzetto e poi usarla. Allora, io vi faccio vedere. Un po' di cose le ho fatte prima per non farvi perdere tempo. Allora, facciamo una strisciolina marrone che io l'ho fatta con la carta da pacchi, però come se voi potete usare qualsiasi carta che vi ricordi un rametto. Poi la incollo, vedete, io l'ho incollata qui, uso la colla, faccio veloce, vi faccio vedere soltanto. La incollo qui. Poi, questo è il rametto di questa pianta. Poi, per mettere, vedete che qui ci sono tanti cuoricini e tante foglioline. Allora, un modo molto semplice di fare il cuoricino, invece di farlo con la matita, poi ritagliarlo, perché poi ci mettete un sacco di tempo. Questo è il lavoro che si fa in cinque minuti, guardate. Allora, io ho piegato, ho piegato il foglio. Dopo che ho piegato il foglio, per farlo venire preciso, guardate che cosa faccio. Ve lo faccio vedere così. Incido, faccio un po' cicciottello qui, una curva, una curva, cioè faccio metà cuoricino. Vedete? Voi provate, eh? Poi lo apro ed è un cuoricino. Non mi piace? Lo cambio. Lo aggiusto. Va bene? Lo faccio meno lungo. Poi metto un pezzettino di colla. Lo avvicino. Vedete? Lo metto qui. Poi dopo, con un pennarello, lo unisco al rametto. Io ho preso la matita, ma voi. Poi la stessa cosa per le foglie. Prendo un pezzettino di carta verde. Se non ce l'ho, me la faccio da sola, con i pastelli, con i colori a cera. Pastelli e colori a cera vanno benissimo. Piego, perché così faccio in fretta. Non ne faccio tante. Poi, dopo che l'ho piegata, guardate, eh? Faccio mezza foglia. Però guardate quante c'è no di foglioline. Faccio così e guardate quante foglioline. Uno e due. La incollo. vicino al cuoricino. E poi vado avanti come voglio. Ecco, questo è il lavoro già fatto. Sotto ci abbiamo scritto grazie mamma. Se però questo lavoro vi sembra troppo difficile, potete solo colorarlo. Vedete? Questo è solo colorato. E qui ci scrivete grazie mamma. Quindi questo è un altro esempio. Se invece, questo per i più grandi magari, eh? Se invece le code nere vogliono provare a fare questo lavoro che è un pochino più complicato, ma non tanto. Possono utilizzare sempre una carta marrone. Oppure se la fanno da solo. Prendono un pezzettino di carta, la piegano, per farlo preciso, eh? Piegando. Poi tagliano e gli danno una forma. Va bene? Cioè, ecco, è molto molto semplice. Ecco, questo è il vasetto. E lo metto sotto. Però non lo metto subito, perché poi ci voglio mettere i gambi dei fiori. Poi, prendo dei pezzettini verdi di carta e faccio così. Guardate, io ve lo faccio veloce, perché se no ci mettiamo tanto tempo e voi vi stancate. Vedete? Faccio queste striscioline. Le posso mettere così, così ne faccio due, le metto sotto. Poi questo vi faccio vedere un modo per fare i fiori molto veloci. Guardate, eh? Questi poi li mettiamo qui. Questo è proprio veloce e veloce. Allora, lo facciamo con il rosso, va? O con il giallo. Allora, faccio un quadrato. il quadrato. Qui lo piego e lo faccio diventare un piccolo triangolo. Poi lo ripiego, lo faccio ritornare un altro triangolo. Guardate, eh? Poi lo ripiego, lo faccio ritornare un altro triangolo sempre più piccolo, più piccolo e poi faccio il piccolo petalo. Lo vediamo, eh? Se viene bene. Provo a fare un piccolo petalo. Posso farlo ancora più piccolo, più... con più pezzettini, più petali. Guardate, eh? Guardate un po'. Se io lo apro, un fiore. Vedete? Vedete? Allora, questo si fa in fretta in fretta. Se vi piace, lo fate. Altrimenti potete fare anche questo solo, questo. Quello che vi vuole. Volete voi. Ci vediamo presto, Castorini. Crum crum.